ONG, in Yemen 8 milioni a rischio morte-fame. ANSA, New York, 16 gennaio nello Yemen in preda alla guerra ben 8 milioni di persone sono a rischio di morire di fame. Quanto denunciano in una nota Save the Children e altre 16 organizzazioni umanitari operanti in territorio yemenita, che chiedono urgentemente la riepertura completa e incondizionata del porto di Udai Daper, consentire l'ingresso in interrotto di cibo e carburante nel paese. Inoltre, oltre 3 milioni di bambini sono nati in Yemen dopo l'escalation delle violenze. Nel marzo 2015, si legge nel rapporto di UNICEF Born into War. Secondo l'agenzia dell'ONU, oltre 5.000 bambini sono stati uccisi o feriti nelle violenze. In media 5 al giorno da marzo 2015. Oltre 11 milioni di bambini hanno bisogno di assistenza umanitaria. Praticamente tutti quelli nello Yemen. E circa 1.8 milioni di bambini sono gravemente malnutriti. Tra cui circa 400.000 che stanno lottando per la vita. Inoltre, quasi 2 milioni di bambini non vanno a scuola.